Il ferruccio di Seregno si affrontano il Como e il Milan, ultima giornata di regular season, la diciottesima, poi ci sarà spazio nei prossimi due weekend per la Coppa Italia Ferrovia dello Stato italiano dove il Milan affronterà in semifinale la Roma, l'altra semifinale è Inter Juventus. Con la maglia del Milan fino ad ora, il Lippmann al rinvio, Guagni in qualche modo passa sull'ex della Fiorentina Zanoli, come Guagni, tanto c'è la palla al centro, Piemonte spaccata, ma che gol ha fatto Martina Piemonte, 1-0 Milan, spaccata al volo di Martina Piemonte, forse il gol più bello campionato, qui Guagni in qualche modo, passa su Zanoli, va in profondità, serve Bergamaschi, gran palla di Capitano Bergamaschi, però Piemonte è bravissima ad allungarsi il più possibile e impattare con... Le viene ribattuto il gol dell'ex, poi Piemonte, posizione regolare, alta possibilità per il Milan, c'è lo scarico, Adami sinistro! Qui vediamo la parte finale, con questa mischia in area di rigore, lo scarico su Adami, Andersen alla battuta, sono 6 rossonere con Aslani 7 al limite dell'area del Como, ultimazione del primo tempo, pallo al centro, bucato da tutti, Piemonte, polo e rete! 2-0 Milan, tocco decisivo ancora una volta di Martina Piemonte, magic moment della 18! 0-0 Milan, sfrutta così questo calcio di punizione, bucato da tutte, non da Piemonte, arriva il duplice fischio di Sacchi allo scadere del primo tempo. Sul finire di tempo, appunto il 47esimo del primo tempo, è nato il 2-0 del Milan. Anche questa volta andrà Trigue Andersen alla battuta verso l'area di Gorin, 5 a saltare, palla sul secondo pole, arriva il 3-0 del Milan! Ancora Piemonte, è la sua giornata, 2-3 gol, da capire il secondo non fa differenza, 3-0 e Martina Piemonte sta vivendo un momento fantastico della stagione e della carriera. Qui in fiducia, la girata di testa, come vuole mantenere la Serie A. Oggi però di fronte un Milan che si è dimostrato determinatissimo da inizio partita, avesse prendere gli ultimi tre punti a disposizione in regular season e per il momento ci sta riuscendo. Qui Vigilucci mette il punto esclamativo! Sul pomeriggio rosso-nero con un grande gol in controbalzo. 4-0 Milan, Bergamaschi, altra gran palla, secondo assist di giornata, Vigilucci al volo, che gol! Arriva il 4-0 per il Milan, il secondo gol in campionato di Valeri Vigilucci! Copra palla il Como, che prova a spingere questo finale, di Luzio, cerca spazio, pensa al tiro di Luzio! Palla alta di poco, gran palla ancora di Bergamaschi, Vigilucci, poi 7 News fischiato in bocca però per Sacchi, che dice che basta così, ha vinto il Milan, lo ha fatto per 4-0, è il pomeriggio di Martina Piemonte! Grazie a tutti!